Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, una settimana di clima bollente per tutta l'Europa meridionale, complice quest'anticiclone nordafricano che anche nel corso di mercoledì si estenderà sull'Europa meridionale, con una massa di aria bollente che proprio dall'entroterra a Sariano raggiungerà le nostre regioni. Dopo un martedì di caldo record invece sulle isole britanniche e la Francia, qui le correnti piegheranno da ovest dall'oceano e saranno un po' più fresche. Andiamo a vedere quindi quello che succederà con l'aiuto di questa mappa della nuvolosità, possiamo notare come sull'Italia ci saranno praticamente sgombri da nubi. Nel dettaglio è la mappa in sintesi dello stivale con tanto sole da nord a sud, verso sera locali temporali sulle Alpi settentrionali, altrove grande canicola, temperature fino a 36-37 gradi al nord, punte quasi di 40 gradi sulla Toscana. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti su questa eccezionale ondata di caldo scaricando l'app di Trabi Meteo.